Ciao a tutti, come potete vedere anche oggi parleremo di Alfresco iniziamo a loggarci come un utente, ad esempio admin e posizioniamoci sul sito andiamo nella raccolta documenti che abbiamo analizzato nel video precedente e andiamo a parlare di workflow posizioniamoci nella cartella documenti e in riferimento al documento caricato andiamo a definire ed avviare un workflow un workflow è una procedura di lavoro che rappresenta le attività che gli utenti dovranno seguire al fine di raggiungere il risultato desiderato esistono due tipologie di workflow in Alfresco quella semplice e quella avanzata poiché questi video trattano una panoramica generale di Alfresco e un utilizzo basilare noi ci soffermeremo sul workflow di tipo semplice clicchiamo quindi su avvia workflow e andiamo insieme a creare un nuovo workflow esistono differenti tipologie esamina prova, esamina prova in gruppo, in parallelo, in pool e quant'altro la più semplice è appunto l'esamina prova semplice clicchiamo quindi su esamina e approva e andiamo eventualmente a scrivere il messaggio ossia l'oggetto sul quale verterà il workflow scegliamo ad esempio analizzare l'indice ad esempio possiamo eventualmente inserire una data di scadenza supponiamo 28 febbraio la priorità media, alta, bassa supponiamo alta e l'esaminatore quindi l'assegnatario in questo caso scegliamo l'altro utente presente nel nostro alfresco e quindi Angela a questo punto l'elemento di cui si parlerà oggetto del workflow il documento è alfresco.dp scegliamo invia notifiche tramite email e quindi avvia workflow a questo punto che cosa succede? notiamo innanzitutto la presenza dell'icona del workflow che ci indica che questo documento appartiene al workflow attivo riceveremo l'utente destinatario riceverà l'email ma non solo lo vedrà all'interno del suo pannello di controllo quindi andiamo a verificare le è stato assegnato un compito il documento alfresco.odp clicca su questo link per scaricare il documento oppure per modificare il compito questa è l'email che viene ricevuta automaticamente quindi a questo punto noi loghiamoci non come admin ma come Angela quindi l'utente assegnatario e vediamo che nei compiti attivi è presente il workflow analizzare l'indice esamina non ancora avviato quindi andiamo sul compito questo è il è il riassunto diciamo dal compito possiamo andare ad esempio a andremo a visualizzare il documento ad esempio download salviamo il documento apriamolo ecco qui supponiamo di aggiungere ad esempio un altro punto interrogativo una qualsiasi modifica al file salviamolo riposizioniamoci nel fresco carichiamo la nuova versione carica nuova versione seleziona file da caricare ed è il file appena scaricato carichiamo diciamo cambiamenti minori di uno quindi lasciamo invariato questo tipologia di versione carichiamo il documento vedremo il documento nuovo caricato la presenza di due versioni particolare ah qui sono di qualche secondo per aggiornarsi sino a che appunto il documento viene appunto aggiornato siamo certi comunque che la nuova versione è stata caricata in quanto è presente nell'elenco delle versioni la versione ecco 1.1 ecco qui il documento è stato aggiornato quindi anche l'anteprima e ne siamo certi a questo punto riposizioniamoci sul pannello di controllo del sito scusate sul pannello di controllo dell'utente dove è presente il compito attivo andiamo a o vedere il compito o modificare il compito nel nostro caso modifica il compito per comunicare all'admin in questo caso che il compito è stato effettuato correttamente quindi lo stato viene modificato in completato possiamo aggiungere il commento l'indice è stato modificato e scegliamo approva a questo punto tra i compiti attivi non è più presente il workflow loghiamoci come admin per vedere che cosa è successo admin con la relativa password ecco qui nei compiti attivi è presente il documento è stato esaminato e approvato andiamo a modificare e possiamo eventualmente andare a verificare la modifica effettuata riposizioniamoci nel pannello di controllo e dobbiamo chiudere questo workflow quindi riposizioniamoci nel compito e scegliamo compito eseguito a questo punto il workflow è completato se ci posizioniamo sul documento vediamo che l'icona del workflow non è più presente e che se andiamo ad analizzare nel dettaglio le proprietà vediamo che questo documento non fa parte di alcun workflow in quanto il workflow è stato chiuso correttamente sarebbe stato possibile anziché chiudere il compito e anziché approvare il documento respingerlo e quindi il ciclo di vita sarebbe continuato possiamo fare riferimento una diapositiva che ci indica il ciclo di vita quindi i documenti vengono creati revisionati e approvati o pubblicati nel caso in cui la revisione non sia corretta si ritorna al punto iniziale e si crea appunto questo ciclo spero che questo tutorial possa essere stato utile vi ringrazio e al prossimo video tutorial vi ringrazio vi ringrazio che Grazie.